Io sono Fortunato Billet, lavoro per il Comune di Genova e in particolare sono responsabile dell'utilizzo di impianti tecnologici e gestione calore del settore patrimonio e demanio a Genova nell'ambito del programma Smart City. Ci siamo impegnati per realizzare un progetto in Big School. Lo abbiamo realizzato in un asilo nido in conformità anche alle politiche che l'amministrazione svolge a livello di politiche sociali e scolastiche e dal punto di vista delle motivazioni tecniche abbiamo scelto questo edificio per la sua collocazione geografica che si trova sulla collina di Voltri, una zona molto soggetta a cambiamenti climatici. L'edificio è aperto su quattro lati per cui è influenzato molto rapidamente i cambiamenti climatici. La zona è particolarmente esposta ai venti e conseguentemente queste condizioni possono riflettersi sulla percezione di un benessere ambientale. Lo scopo principale del progetto, oltre a quello di realizzare il consumo energetico, è anche quello di utilizzare, cioè indirizzare le persone ad un uso di comportamenti, per un uso internazionale dell'energia per realizzare che cosa? È un benessere fisiologico del bambino, soprattutto, e anche del personale che opera presso la struttura, in quanto con i sistemi tradizionali possono esserci delle temperature, delle condizioni di comfort non omogenee tra un locale e l'altro. Abbiamo adedito, siamo partner del progetto europeo VeriSchool, insieme a altri 11 partner europei, con la collaborazione della società da Polonia e la collaborazione della Docchera e la nostra, sono stati raccolti i dati dell'edificio. Gli impianti, essendo già molto bene adeguati e già telecontrollati, non daranno sicuramente vantaggi enormi, dal punto di vista, se posso usare questo termine. Ci si deve aspettare semplicemente una razionalizzazione. Le artese, invece, sono positive dal punto di vista della replicabilità del progetto. Il premio che avevamo ricevuto ad Amsterdam, proprio per l'attuazione di questo progetto, per un impegno profuso e per i buoni risultati, almeno dal punto di vista dell'acqua.